Amiche, amici, amici Amici appassionati di moto e di moto mondiale, bentornati a un'altra diretta di ZamTube, oggi è giorno di notizie della settimana, la rubrica per commentare insieme le notizie, secondo me più interessanti, pubblicate negli ultimi sette giorni da Moto.it, ma non solo, ma anche da altri siti web, anche dai quotidiani, insomma una sorta di rassegna stampa però fatta assieme a voi. Saluto tutti, saluto tutti voi che siete collegati, mi fa sempre piacere vedervi qui con me anche la domenica, anche in una giornata bella come quella di oggi. Allora intanto fatemi fare i complimenti a Berrettini che è tornato a vincere un torneo dopo parecchio tempo, appena vinto a Marrakesh, è un ATP 250, è comunque un torneo importante per Berrettini che purtroppo era lontano dai campi di gioco da parecchio tempo. Allora saluto Giancarlo Falappa che vedo collegato, ciao Giancarlo è sempre un piacere averti qui con me, ricordati Giancarlo che dobbiamo sempre organizzare una diretta o comunque insomma una, magari un quella volta che, con Giancarlo Falappa mi piacerebbe registrare un quella volta che, vediamo se riusciamo nelle prossime giornate. Allora questa è stata una settimana di annunci, devo dire che naturalmente il Moto.it ma tutti gli altri canali web si sono riempiti con la notizia di Liberty Media che ha comperato Dorna. Abbiamo dedicato un sacco di tempo, un sacco di spazio a questo argomento, qua non lo riprendo oggi, tra l'altro vi segnalo che su Moto.it trovate il podcast, la puntata 157 se non mi ricordo, è dedicata proprio a Liberty Media con Davide Brivio che spiega cosa può portare Liberty Media al moto mondiale. Credo che sia interessante, la trovate già su Moto.it e la trovate sulle principali piattaforme audio e da domani la trovate anche in versione video, questa volta in versione video perché è stata registrata da fuori dal circuito, quindi in versione video anche domani su Zamtube. Quindi quella notizia oggi non la trattiamo, ho visto un sacco di commenti, ho visto tantissimi commenti, allora mi sembra di poter dire che gli appassionati sono un po' preoccupati da questo arrivo di Liberty Media. Ecco, io invece mi sono convinto parlando con Brivio, parlando con gli esponenti della donna, parlando con tante persone che Liberty Media potrebbe fare delle scelte giuste, potrebbe portare maggiore visibilità al moto mondiale. Speriamo che sia così. Io ho indicato la notizia in prima fila al rinnovo del contratto di Fabio Quartararo con Yamaha fino al 2026 compreso. Dico subito, l'ho già detto più volte che io non sono uno di quelli che pensa che Fabio Quartararo abbia firmato Yamaha solo per i soldi, è chiaro che i soldi sono un elemento importante, quella cifra lì probabilmente non gliel'avrebbe data nessuno. Si parla di 10 milioni di euro per due stagioni, ecco 10-12 milioni di euro a seconda della fonte, ecco diciamo che io sono uno di quelli che dice che Fabio Quartararo ha firmato con Yamaha perché ha visto degli sviluppi interessanti per il futuro della Yamaha. Questa naturalmente è soltanto la mia opinione. Comunque torneremo su questo argomento a fine trasmissione. Ricordo che in questa trasmissione, notizia della settimana, faccio un po' fatica a seguire i commenti perché devo seguire i resoconti, la segna stampa, quindi portate pazienza se non rispondo. Vedo che c'è una critica però, vediamo di Manuel, poi iniziamo. Ti spiego una cosa, non arrabbiarti, il banner sotto sul tv OLED dà problemi, per quello c'è chi dice di toglielo. Non ho capito niente, ma Manuel, porta pazienza, non so cosa sia un tv OLED, non so cosa sia, il banner ha la scritta sotto, dice che dà problemi, per quello c'è chi dice di toglielo. Ragazzi, tutti, tutti non riesco a raccontentarvi, secondo me è giusto che ci sia comunque un riferimento, una sorta di sommario su quello che stiamo facendo. Allora, partiamo dalla prima notizia che voglio analizzare insieme a voi, questa l'ho trovata sul sito di Sky, di Sky Sport, il titolo è MotoGP, il bilancio dopo due gare, i numeri sono chiari, Ducati, la moto da battere. Allora, andiamo a vedere un po' cosa c'è scritto all'interno dell'articolo, i numeri, ripeto che questo è un articolo che trovate, un'analisi che trovate su Sky Sport nella sezione MotoGP, i numeri non mentono, il confronto tra i primi due gran premi del 2023 e i primi due di questa stagione ci dice che Ducati è ancora la moto da battere. La casa di Borgo Panigale ha già raccolto 71 punti nella classifica costruttori, esattamente come un anno fa. Ecco, io credo che questo sia un aspetto interessante, la Ducati dopo due gran premi ha fatto gli stessi punti che aveva fatto nel 2023. Poi nell'articolo si passa all'analisi dei piloti, l'analisi dei piloti, la differenza con il 2023, la trovate anche su Moto.it, nell'articolo che si chiama Considerazioni, domande, spunti, dopo il che viene fatto al termine di ogni gran premio. Il pilota che ha fatto più punti dopo due gare rispetto al 2023 è naturalmente Nea Bastianini, naturalmente perché lui di fatto le prime due gare, anzi senza di fatto le prime due gare, non le aveva corse, nel 2023 era zero punti, quindi Bagnaia e Bastianini, scusate, quello che ha avuto un miglior incremento rispetto al 2023. Ecco, però io volevo sfruttare l'articolo di Skype per continuare ad andare, ad analizzare il discorso delle case, e tra l'altro mi è venuto in mente che questa analisi sarebbe giusto farla anche su Moto.it, quindi dal prossimo gran premio, direi che la introduco il confronto con l'anno precedente, dice, andiamo a vedere, quest'anno però a livello altissimo e visto il miglioramento di KTM, aprile il mondiale è decisamente più combattuto. La casa austriaca, continua l'articolo, si è notevolmente avvicinata in termini di prestazione, infatti lo scorso anno Binder, pilota di punta della casa, aveva raccolto solo 22 punti, mentre quest'anno ha quasi raddoppiato, ed è secondo nella classifica mondiale. In tutto hanno raccolto 50 punti in classifica costruttori, quindi KTM ha fatto 50 punti nella classifica costruttori, 12 in più rispetto a quelli dell'anno passato, senza dimenticare il brillante rookie della Gas Gas, Pedro Acosta. Ecco, questi 12 punti in più della KTM, secondo me è un dato interessante, è un dato da sottolineare, conferma quanto io sostengo dall'inizio della stagione, KTM è più solida rispetto al 2023. Ecco, questo è assolutamente un dato da tenere in considerazione. Vedo Claudio che fa una considerazione, sarebbe bello fare anche un confronto di crescita di velocità, su giro del passato ad oggi in ogni pista. Ecco Claudio, ti segnalo che nell'articolo di moto.it che trovi la domenica sera, dopo la fine del Gran Premio, attualmente ci sono tutti questi confronti, c'è il confronto tra la pole position del 2023, la pole position del 2024, il tempo totale del 2023 e del 2024, la sprint, insomma ci sono un sacco di confronti che secondo me possono essere utili, Claudio, per capire meglio l'evoluzione della MotoGP. Allora, andiamo avanti, cresciuta anche Aprilia con il suo capitano, Alessio Spargarò, con Maverick Vignales, ha già messo in bacheca la prima vittoria nella sprint, eccetera. La rincorsa al titolo riparte del 13, il 14 aprile in Texas. Questo appunto era l'articolo che trovate su Sky. Allora, andiamo avanti con questa sorta di rassegna stampa e andiamo a dedicarci ad una considerazione che fa Enea Bastianini. Questo articolo lo potete trovare su motorsport.it o motorsport.com, il titolo è Bastianini ad Austin, avremo un problema con Marquez. Enea Bastianini, dice il sommario, afferma che nel ritorno dalla MotoGP al circuito dell'America del prossimo fine settimana, la griglia avrà un problema con lo specialista del Cota, Mark Marquez. Allora, all'interno, il giornalista di motorsport dice Enea Bastianini ha vinto a Cota nel 2022, ricordiamolo una vittoria strepitosa. È vero che Marquez non c'era in quel Gran Premio, o no? C'era o era partito male? Comunque Enea Bastianini ha vinto a Cota nel 2022 ed è contento di tornare in America dopo un anno di assenza, causa l'infortunio alla spalla. Ecco, infatti l'anno scorso Enea Bastianini non ha potuto correre lì. Tuttavia il portacolore ufficiale Ducati teme la minaccia di Marquez. Aperte le virgolette. Ho perso la gara l'anno scorso per l'infortunio, però ho ben ricordi dal 2022. Era stata la mia vittoria preferita della stagione ed è bello tornare al Cota. Avremo un problema con Mark perché è molto veloce su quella pista, ma lo avremo anche con gli altri piloti. Vedremo come va. Ecco, intanto questa considerazione di Bastianini devo dire che lui lo ripete spessissimo che quella vittoria negli Stati Uniti era stata la sua preferita del 2022, anche se ce ne erano state altre tre comunque molto belle, molto significative. E comunque Bastianini sottolinea quello che pensiamo tutti. Mark Marquez ad Austin sarà uno dei favoriti per la vittoria. Almeno io sono uno di quelli che crede che Mark Marquez assolutamente si giocherà la vittoria negli Stati Uniti perché lì va fortissimo, perché è una pista dove gira sinistra, perché non dimentichiamolo nel 2023. È vero che la gara è stata vinta da Alex Rins, ma è stata vinta da Alex Rins perché Pecco Bagnaglia con la GP23 aveva fatto uno sbaglio, mentre era al comando con margine. Quindi la GP23 ad Austin è sicuramente competitiva, assolutamente competitiva. Quindi io sono convinto e Bastianini, ripeto questo è un articolo che trovate su motorsport.it o .com che si voglia, ecco, Bastianini la pensa uguale ad Austin, avremo un problema con Marquez. Io sono convintissimo, sono convintissimo che Mark Marquez sarà uno dei protagonisti assoluti del prossimo Gran Premio. Ricordiamo, terzo appuntamento stagionale. Allora, torniamo a un argomento che riguarda il 2020. Questa notizia è stata pubblicata da Moto.it Io sono molto, l'ho letta con grande curiosità questa notizia. Allora, il titolo è, lo vedete, MotoGP 2024, Ramon Forcada, Ramon Forcada, ricordiamolo, capo tecnico di Franco Morbidelli nel 2020, quando Franco si giocò il titolo. Ramon Forcada racconta il dettaglio giapponese che nel 2020 fece perdere il mondiale a Franco Morbidelli. Lo storico capo tecnico del Moto Mondiale è intervenuto sul canale di Org Lorenzo. Org Lorenzo ha un suo canale podcast che sta funzionando molto bene, come è giusto che sia, raccontando l'episodio del Mondiale in cui Morbidelli finì secondo. Questo è il sommario. Allora, andiamo a vedere cosa c'è dentro, scritto dentro l'articolo, perché è veramente molto, molto interessante. L'episodio raccontato da Forcada, ripeto, questo è un racconto che Forcada ha fatto durante un podcast che mi sembra si chiami Dura la vita di Org Lorenzo. L'episodio raccontato da Forcada risale alla vittoria di Morbidelli ad Aragon, parliamo del 2020. Virgolettato di Forcada, eravamo a 0,01 dalla pressione consigliata e la Michelin ha detto che era perfetta, ma c'era qualcuno che non era d'accordo. I giapponesi pensavano che non fosse elegante perché eravamo al limite. Nella gara dopo, ve lo ricordate, nel 2020, a causa del Covid, spesso vennero fatte due gare sullo stesso circuito, a distanza di una settimana, ed era avvenuto anche ad Aragon. Appunto, la prima gara era stata vinta da Morbidelli, nella seconda invece Morbidelli finì solo settimo. Ecco, nella gara dopo la situazione è cambiata. Tutto uguale, dice Ramon Forcada, ripeto, questo articolo lo trovate su moto.it, ripreso dal podcast di Org Lorenzo. Morbidelli motivatissimo e un giapponese arriva e dice che ora faremo la pressione perché voi barate. siamo andati più su di 0,15 e lui, cioè Franco Morbidelli, è arrivato settimo. Lì abbiamo perso il mondiale, ha concluso Forcada. Ecco, beh, questa è una dichiarazione per certi versi clamorosa, ma è anche una dichiarazione che fa capire bene l'attitudine dei tecnici giapponesi, e le peculiarità dei tecnici giapponesi rispetto a quelli europei, rispetto a quelli italiani. Ecco, questa cosa che sia troppo al limite con la pressione, creava del disagio ai tecnici giapponesi. A loro sembrava addirittura di barare, anche se Mishen ha detto che così era perfetta. E non dimentichiamo che nel 2020 non c'era la regola della pressione minima come c'è oggi, o meglio, c'era la regola, ma era soltanto un consiglio. Quella pressione doveva essere rispettata per consiglio della Mishen, ma non era obbligatorio rispettarla. Quindi questa rivelazione di Ramon Forcade è veramente clamorosa e ci dice veramente come la mentalità giapponese sia veramente completamente differente dalla nostra e come Franco Morbidelli avrebbe potuto vincere il Mondiale se semplicemente avesse potuto correre ad Aragon come la settimana precedente con le pressioni che, ripeto, non erano assolutamente fuori norma. Ecco, è una mentalità molto diversa dalla nostra, è una mentalità assolutamente rispettabilissima, però è chiaro che adesso le corse sono cambiate. Bisogna, è chiaro, bisogna stare dentro ai regolamenti, questa è la prima cosa, ci mancherebbe altro. Bisogna stare dentro ai regolamenti, ma bisogna usare. Se non osi, non vai da nessuna parte e devo dire che per quello che so io, per quello che ho capito, per quello che ho visto all'interno del box Yamaha con l'arrivo di Max Bartolini, una delle differenze rispetto al passato è che si prova a usare anche con dei componenti nuovi, magari prima per inserire un nuovo componente bisognava che lo provasse il collaudatore, poi che venisse riprovato in Giappone, poi che venisse approvato dallo staff tecnico, insomma c'era tutta una procedura molto complicata, molto lunga, molto rigorosa, ecco adesso si sono accelerati i tempi, magari vengono introdotte delle novità anche se non sono state provate al meglio in Giappone, ecco è proprio veramente un un cambio di mentalità, allora ricordo che in questa trasmissione faccio un po' fatica soprattutto all'inizio a rispondere agli appassionanti perché devo seguire, devo leggere la segna stampa che mi sono preparato, magari verso la fine della trasmissione cerchiamo di se ce ne sono ancora di riunire qualche commento, intanto ripeto sempre saluto e ringrazio tutti voi che siete collegati, mi fa sempre molto piacere. Allora ci trasferiamo su gazzetta.it questo è il titolo che vedete Joan Zarco avvisala Ducati Marquez in squadra è come un lupo nel pollaio questa è una intervista che il pilota francese ha lasciato alla televisione francese il sommario dice il francese passato dal Team Pramac alla Honda LCR invita a non sottovalutare Marc Bagnaglia è molto calmo ma Marc è fastidioso vuole vincere gare e lottare per il campionato anche perché ha nel mirino Valentino Rossi nel senso che ovviamente ha nel mirino i nove titoli mondiali conquistati da Valentino Rossi devo dire che questa intervista di Joan Zarco che è stata rilasciata come vedete Zarco ha analizzato qua si parla dell'episodio del contatto Bagnaglia Marquez di Portimao lo ha analizzato ai microfoni della tv francese Canal Plus allora dice non avevo visto bene le immagini c'è sempre un po' di colpa da parte di entrambi tra chi resiste e chi ha troppa fiducia ecco però è la riflessione dopo che è interessante per noi secondo me poi Joan ha aggiunto c'è un errore un refuso una propria riflessione sarà una stagione molto interessante penso che Marquez in Ducati sia il lupo nel pollaio ecco questa devo dire che è un'immagine un'immagine così molto azzeccata in qualche maniera che usa Zarco nei confronti della situazione Marquez Ducati dice il francese poi argomento meglio alla tematica Bagnaglia è molto calmo ma Marquez è fastidioso sarà molto interessante ma anche per la Ducati l'immagine dello spagnolo è enorme io continuo a pensare che per la Ducati vincere con Marquez comunque sarebbe qualcosa di clamoroso ed importante io anzi sono quasi convinto che sotto certi aspetti Gigi Daligna sarebbe forse più per Gigi Daligna sarebbe un ulteriore onore vincere eventualmente il mondiale con una moto dell'anno precedente in un team satellite con un pilota che viene dalla Honda dopo tantissimi anni così difficili ecco io continuo a pensare poi lo so che i complottisti invece dicono che hanno già tolto 500 giri alla Ducati di Marquez che gliene toglieranno altri 500 che non potrà mai vincere il mondiale eccetera eccetera io la penso veramente in maniera in maniera differente allora andiamo avanti con le dichiarazioni che ha fatto sempre Joan Zarco dopo il Gran Premio di Portimaro riportate da Gazzetta.it e dichiarazioni fatte dalla televisione francese Canal Plus dice Zarco credo che Marquez abbia tanta voglia di vincere gare nella sua testa c'è l'idea di giocarsi il campionato perché vuole raggiungere Valentino Rossi nel numero di titoli con queste premesse il 2024 sembra davvero intrigante questa è una considerazione del giornalista per gli appassionati e Joan scherza sul clima in seno alla casa di Borgo Panigale sono quasi felice di aver lasciato la Ducati proprio quando è arrivato Marquez ecco io credo credo che questa dichiarazione di Zarco sia molto significativa sia molto interessante sia una bella fotografia una fotografia corretta di quello che può succedere potrebbe succedere all'interno della squadra Ducati intesa proprio come Ducati come fabbrica Ducati nel caso di vittorie di Mark Marquez ripeto io sono uno di quelli che dice che Mark Marquez si giocherà vittorie e anche titolo mondiale secondo me nelle prime gare al di là di qualche errore al di là del fatto che io in Qatar no scusate a Portimaro pensavo che in gara potesse addirittura vincere ecco però io credo che Mark Marquez sia molto forte molto in forma e queste dichiarazioni di Zarko sono assolutamente significative le ho trovate molto interessanti ripeto questo è un articolo che potete trovare su gazzetta.it titolo Giovanni Zarko avviso la Ducati Marquez in squadra come un lupo nel pollaio è ripreso da un'intervista che il pilota francese ha rilasciato a Canal Plus allora andiamo avanti nella nostra rassegna stampa un altro articolo che mi ha convinto io intanto rimetto la scritta sotto che a me piace ricordo che fino adesso abbiamo parlato di Austin abbiamo parlato di Markets in qualche maniera adesso andiamo a parlare abbiamo parlato di Bastianini e andiamo a parlare di Acosta allora questo questo articolo lo trovate su motogp.com sul sito ufficiale della Dorda il titolo Acosta e il sorpasso a Mark Marquez lui l'ha fatto a Rossi e io a lui questo è il titolo allora andiamo a vedere cosa ha detto Acosta di interessante ripeto questo è un articolo che trovate all'interno di motogp.com è un articolo che è stato anche in questo caso ripreso da un'intervista che Mark scusate che Pedro Acosta ha rilasciato a una tv spagnola vediamo un attimo aspettate che vado a vedere un attimo il testo corso lezionate ecco qua a partire dalle schermaglie che l'hanno visto protagonista in Qatar durante il primo appuntamento del 2024 insieme all'otto volte ridato Mark Marquez il momento in cui l'esordiente ha sorpassato il veterano non è passato sotto silenzio ecco il virgolettato di Acosta è sembrato più facile in televisione di come l'ho vissuto io lui l'aveva fatto con Rossi e ora io l'ho fatto con lui la godura è stata massima dice bellissimo assolutamente bellissimo allora poi andiamo a vedere altre dichiarazioni di Pedro Acosta che sta diventando un personaggio sempre più amato dagli appassionati sempre più benvoluto per tantissimi tantissimi motivi in questa intervista ripeto rilasciata alla televisione spagnola da Acosta anche un pensiero alla famiglia vero trampolino verso il successo sportivo dice Acosta non sarei qui se non fosse per loro e per quello che hanno fatto per me in questo momento me ne starei invece con mio padre a pescare perché quello è il suo mestiere grazie a loro il mio sogno di ragazzo si è avverato quello che mi sta succedendo ora non è merito mio non è il frutto degli allenamenti o del talento il riconoscimento valoro che hanno rischiato il lavoro e la casa per quello che era il mio hobby tutto quello che sono oggi lo devo a loro ecco devo dire che questa è una dichiarazione molto forte molto bella molto appassionata molto riconoscente da parte di Pedro Acosta non è assolutamente normale per un ragazzo non è assolutamente scontato per un ragazzo di 19 anni quindi bravissimo tra l'altro anche nel podcast che trovate su moto.it che avevo registrato proprio in occasione del gran pieno di Portimaro con Pedro Acosta e che trovate in versione fotografica mi raccomando fotografica e non video sul canale youtube sul mio canale youtube ecco Acosta dedica un pensiero al papà dice mio papà è un appassionato si gode le corse viene qua alle corse non gli sembra vero è un ragazzino che si diverte che si diverte a venire a vedere le corse però io e lui non possiamo parlare perché se no litighiamo come è normale che sia tra padre e figlio di qualità e poi l'articolo ripeto che questo questo caso è stato pubblicato da motogp.com ripreso da un'intervista rilasciata alla televisione spagnola dice infine un episodio simpatico aperte le virgolette quindi parole di Acosta siccome ho un ego molto grande dice Acosta grandissimo grandissimo mi piace da matti devo dire che ogni intervista che leggo mi fa divertire mi appassiona dice a volte dice Acosta vado su google e cerco qualcosa su di me un giorno ho pensato di controllare su Wallapop chiedo scusa non so cosa sia se c'era in vendita immagino che sia un sito di vendita se c'era in vendita qualcosa di mio ho trovato stivali saponette quanti e non solo ma niente che mi fosse realmente appartenuto indispettito ho pensato di prendere in giro questi venditori vendendo la mia biancheria intima usata ma vittoriosa beh io devo dire che è assolutamente un gigante Pedro Acosta devo dire che anche in queste dichiarazioni mi sembra veramente di vedere un ragazzino gioioso allegro con la voglia di scherzare con la voglia di prendere in giro di prendersi in giro con la voglia di ironizzare insomma veramente un bellissimo personaggio oltre che naturalmente un grandissimo campione ecco comunque insomma questa cosa niente indispettito ho pensato di prendere in giro questi venditori vendendo la mia biancheria intima usata ma vittoriosa ecco devo devo dire che è assolutamente piacevole assolutamente piacevole e divertente allora come vi dicevo all'inizio lascio per ultimo il discorso su Fabio Quartararo allora io ho già detto la mia trovate anche un video sul canale youtube una notizia in prima fila io continuo a ripetere che Fabio Quartararo non ha scelto di rimanere in Yamaha soltanto per i soldi ma ci sono almeno tre motivi uno sono i soldi naturalmente il secondo è che le alternative di fatto non erano così convincenti perché alla fine l'unica vera alternativa sembrava potesse essere Aprilia e al di là dell'ingaggio che era sicuramente molto inferiore diciamo la metà forse anche meno rispetto a quello che probabilmente ha proposto Yamaha però al di là di quello la mia sensazione soltanto una sensazione è che comunque Quartararo non sia stato completamente convinto dalle prestazioni di Aprilia per qualche motivo mentre questo è il terzo motivo per cui lui ha scelto di rimanere in Yamaha Quartararo e questo lo ripeto devo dire dai test di Sepang sembra molto sembra molto molto convinto del nuovo metodo della nuova strada intrapresa da Yamaha nel suo insieme ricordiamo che non è soltanto l'arrivo di Max Bartolini ma sono cambiate tante persone c'è l'accordo con Marmorini per i motori c'è l'accordo con Dallara nel video anche detto ironiamente con Toyota di Toyota viene usata la galleria del vento ma c'è l'accordo con Dallara per lo sviluppo aerodinamico insomma c'è ci sono tante novità c'è molto molto fermento l'ho già detto tante volte lo ripeto anche in questo caso Fabio Quartararo l'injavis scusate il numero uno di Yamaha corse ha paragonato questa stagione duemila e ventiquattro a quella di vent'anni fa quella del duemila e quattro quella della grande quella che della grande rivoluzione no? quello dell'arrivo di Valentino Rossi di Furusawa di questa Yamaha che era disastrosa fino al 2003 e poi venisse il mondiale allora è chiaro che questa cosa non può essere fatta nel 2024 la distanza con Ducati ma anche con April e con KTM è troppo grande io sono anche un po' preoccupato a pensare che anche nei prossimi due anni Yamaha difficilmente riuscirà ad arrivare a essere super competitiva per permettere a Quartararo di giocarsi il mondiale però questa strada nuova che è stata intrapresa evidentemente ha fatto scegliere ha fatto fare questa scelta a Fabio Quartararo allora era abbastanza evidente questo l'avevo capito persino io che di mercato non so assolutamente nulla che Fabio Quartararo sarebbe stato il primo pilota a muoversi al di là di chi aveva già un contratto come Bagnaglia che l'ha rinnovato subito Aldeguer che ce l'aveva già da mesi Binder che ce l'aveva già ce l'ha già per i prossimi anni Acosta ricordiamo che Acosta ecco cosa succede al mercato adesso Acosta ha un accordo con KTM anche per il 2025 da quello che so io però Acosta ha la possibilità di andare via da KTM se KTM non dovesse metterlo nella squadra ufficiale cosa significa questo significa che secondo me l'anno prossimo al 100% Acosta sarà nel team ufficiale assieme a Binder però l'accordo con KTM per quello che so io è questo il contratto c'è l'accordo tra KTM e Acosta anche per il 2025 ma KTM è obbligata a mettere Acosta nel team ufficiale se no Acosta può decidere di andare via poi potrebbe anche decidere di rimanere ma insomma in ogni caso questo è il contratto poi altri piloti che hanno già il contratto per le prossime stagioni Luca Marini che ha il contratto fino al 2025 compreso altri piloti che hanno il contratto non ce ne sono quindi se non mi sbaglio sono 17 i piloti senza contratto allora cosa succede adesso cosa cambia questa scelta di Fabio Quartararo allora intanto è arrivata è arrivata piuttosto presto l'hai compasso un pollicione che non so perché ma facciamo finta di niente anche Zarco bravo Ercole Valli mi suggerisce che anche Zarco ha un contratto per il 2025 giusto mentre Lore dice Rins ha contratto secondo me no Rins ha il contratto solo per il 2024 però questo è da verificare ecco però volevo condividere con voi il mio pensiero allora intanto una cosa su Quartararo che questa firma del contratto è stata per certi versi inaspettata viste le dichiarazioni che faceva che ha fatto Fabio in questi mesi sulla poca competitività della Yamaha ha sempre detto siamo troppo siamo troppo lontani gli altri sono migliorati eccetera eccetera ecco una considerazione che mi viene a fare su Quartararo è che comunque è che comunque è stato anticipato molto questo contratto il contratto è stato firmato sicuramente in Portogallo e devo dire che in Yamaha sono stati anche bravi a tenerlo nascosto perché non c'è stata nessuna anticipazione non ho visto da nessuna parte il classico io l'avevo detto l'avevo scritto dieci mesi fa io lo sapevo ve l'avevo detto questi ce ne sono tanti di megalomani che puntano tutto su lo scopo assoluto della notizia del mercato e sono convinti sempre di dare la notizia per di tutti ecco in questo caso devo dire che la notizia di Fabio Quartararo non è stata anticipata da nessuno almeno che io sappia non l'ho vista da nessuna parte questa è una piccola curiosità cosa cambia per il mercato duemila duemila e venticinque allora cambia cambia relativamente allora è chiaro che uno dei posti più appetibili potrebbe essere quello di Aprilia molti appassionati italiani so che vorrebbero che Enea Bastenini andasse in Aprilia Enea Bastenini sta facendo di tutto comunque per conservare il suo posto in Ducati ufficiale anche se sinceramente credo che sarà difficile ecco io però credo che adesso tutto ruoterà intorno al secondo pilota di Ducati ufficiale allora proviamo a ragionare insieme Martina lo ha già detto più di una volta questo è l'ultimo anno che lui fa con il team Pramac lui dice cosa devo fare di più per dimostrare di meritare il posto all'interno della squadra ufficiale quindi Martina vuole quel posto lì e quindi Martina punta al posto a fianco di Bagnaia io credo che però Ducati giustamente giustamente non abbia nessuna 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 fretta nessuna fretta di decidere il secondo pilota almeno fino al Mugello ma probabilmente anche dopo non si saprà intanto leggo che tanti dicono Carletto Pernat aveva detto chiaramente che Fabio rimaneva in Yamaha sì è vero lo aveva detto anche nel podcast Belint l'avevo detto che trovate sia su moto.it sia sul mio canale l'aveva detto prima dell'inizio della stagione assolutamente questo ha detto che era una delle grandissime possibilità anzi era la possibilità più probabile ecco però neanche Carletto Pernat almeno credo io pensava che si decisesse così alla svelta e comunque grande merito a Carletto Pernat non a caso è il protagonista di Belint l'avevo detto su moto.it ecco tornando tornando a Martin lui vuole quel posto là è chiaro che uno dice ma dove va Martin se non dovesse mettersi d'accordo con Ducati è chiaro che a quel punto bisognerebbe fare diverse trattative fare diversi ragionamenti lui piace moltissimo ad Alberto Pugge ma la Honda in questo momento non ha la moto da offrire a Martina e secondo me non ce l'avrà neanche fra sei mesi questa è una mia considerazione e comunque Martina si gioca a quel posto lì secondo me con Andrea Bastenini e secondo me anche con Mark Marchez ecco io però credo che la prossima mossa decisiva o la prossima mossa molto importante di mercato potrebbe venire da Pramac cosa farà Pramac nel 2025 dove sarà messo Fermin Aldeguer allora Pramac c'è qualche problema tra Pramac e Ducati Pramac non è stata così contenta di come è finito il mercato 2023 e quindi della scelta di alcuni piloti del 2024 però io sono convinto che Pramac alla fine rimarrà con Ducati e io sono convinto anche che uno dei due piloti sarà Fermin Aldeguer poi vediamo tutto il resto cosa succede allora secondo Simone invece il prossimo annuncio sarà Mark Marquez con KTM ecco io però Mark Marquez con KTM ma dove però Simone perché Binder ha già un contratto è vero che forse Binder lo possono spostare nel team satellite forse ma non credo a Costa io non credo che KTM voglia perdere a Costa e quindi Mark Marquez dove dove lo mettono ma io ho qualche dubbio è comunque sicuramente un mercato che per chi si appassiona di queste cose è un mercato assolutamente in grande movimento per la stagione 2024 sapete che io non amo non amo troppo questo argomento però insomma credo mi sembrava giusto comunque fare un attimo il punto della situazione allora vediamo se c'è qualche domanda alla quale posso rispondere Andrea che credo che sia uno dei complottisti dice ma riguardo le indagini sulla gomma di Martin dell'ultima gara dell'anno scorso si sa qualcosa non si sa assolutamente niente almeno io non so assolutamente niente e non sapremo mai niente Michelin aveva già specificato che secondo loro non c'erano chissà quali problemi e quindi questa è andata allora vediamo velenio se Martino fa di nuovo primo o secondo perché non dovrebbero prendere in ufficiale è brutto ma i Ducati fanno così Enea purtroppo non può fare molto questa è la considerazione di velenio poi andiamo avanti Gabriele morbido dove andrà allora non lo so però lasciamo a morbido la possibilità eventualmente di tenersi quel posto lì io continuo a pensare che morbidelli sia un pilota che ha le possibilità per tenersi quel posto lì sarò troppo ottimista sarò di parte sarò Valentiniano perché poi naturalmente se dici un qualcosa sui piloti del VR 46 ti attaccano ecco il solito Valentiniano io continuo a pensare che morbidelli uno che nel 2020 l'abbiamo sentito prima da Ramon Forcada perché ha perso il mondiale io continuo a pensare che morbidelli abbia le capacità e le possibilità di tenersi quel posto lì diamogli però un po' di tempo allora Zio Tibia Honda Aprilia necessitano di top rider allora intanto ti ricordo che Honda ha comunque un campione del mondo che si chiama Sean Meere è vero che il 2023 è stato disastroso per lui è vero che è un pilota in questo momento non al massimo della condizione ma è comunque un campione del mondo ti ricordo che Joan Zarco ha vinto due mondiali della moto 2 è uno che ha vinto un gran premio l'anno scorso con la Ducati è uno che ha dimostrato di sapere andare forte quindi i piloti comunque marini che adesso è in grandissima difficoltà però non dimentichiamo che in Qatar 2023 conquistò la pole e insomma ha fatto dei podi nelle sprint quindi diciamo che anche lui non è messo così male Nakagami obiettivamente è un po' più in difficoltà mentre per quanto riguarda Aprilia siamo al solito discorso il Vignales però visto a Portimaro secondo me è un pilota in grado di fare la differenza è uno di quelli che può portare l'Aprilio a vincere Alec Spargaro ha la sua età ha i suoi limiti ma secondo me è un pilota fortissimo tra l'altro Alec Spargaro sarà lui il protagonista della prossima puntata di A Tutto Gas lo registrerò a Austin quindi Alec Spargaro però al di là di questo è comunque un pilota che forse non ti garantisce il titolo mondiale questo dice la storia però non è così scarso Olivera è uno che se ritrova secondo me fiducia nella moto dopo tante cadute se ritrova un po' di serenità è uno di quelli che può andare molto forte e Raul Fernandez in moto 2 è stato uno di quelli che ha fatto ancora di più di Pedro Acosta al debutto in moto 2 e obiettivamente obiettivamente adesso sta facendo molta fatica allora dice ma Fabio Andrea chiede ma Fabio non poteva andare in Gas Gas allora io credo che uno come Fabio sia giusto che non che non pensi a una squadra satellite lui ha vinto il mondiale con la Yamaha è un pilota che fino a metà 2022 sembrava destinato al secondo titolo mondiale è uno di quelli che fa la differenza io credo che sia giusto che lui pensi a una squadra ufficiale allora vediamo vado avanti con un po' di considerazioni visto che ne arrivano tante Gabriella Martín con le sue dichiarazioni estemporane si è bruciato fuori da Pramac può solo darsi all'ipica come ostacolo dai Gabriella sei stato un po' troppo un po' troppo severa Martín è uno che va forte che vince gran premi è uno che fa delle polpe pazzesche insomma io non credo che lui abbia eventualmente problemi a trovare un'alternativa un'alternativa alla Ducati allora c'è una domanda che non capisco vediamo Francesco dice Zama ma sei pneumatici? Francesco non ho capito questa non ho capito questa questa tua considerazione Gioia l'unica possibilità per morbido è andare in VR anche quella è una possibilità però Gioia diamo il tempo al morbido ripeto io sono convinto che Morbidelli che Morbidelli potrà tenersi quel posto lì io ci conto ci spero mi farebbe molto piacere per lui Claudio dice in VR46 rimarrà la stessa coppia speriamo io sinceramente Claudio non lo so non so ancora se il team VR46 rimarrà ancora con Ducati come dovrebbe essere però ricordiamo le dichiarazioni che ha fatto Luigi Daligna Gigi Daligna alla vigilia del primo Gran Premio ha detto sarà molto difficile per Ducati mantenere 6 8 moto per la stagione 2024 allora Gresini ha già un contratto anche per il 2025 con la Ducati e allora l'altro team potrebbero essere o il team Pramac o il team VR46 io continuo a pensare che il team Pramac rimarrà lì ma magari sbaglio allora andiamo avanti Alessandro marca con KTM forse più avanti quando sarà Gresini a passare in KTM comunque fino al 2025 compreso non c'è questa possibilità allora vediamo Giancarlo dice è possibile che ci sia una clausola a favore di Quartararo che lo aiuti a svincolarsi in caso di mancata competitività non lo so sinceramente non lo so è una domanda che posso girare a Simone Battistella a un manager di grande esperienza allora abbiamo visto comunque abbiamo visto proprio in un recente passato con Mark Markers che al di là del contratto se un pilota vuole andare via una casa difficilmente lo trattiene perché è controproducente è controproducente per per la casa stessa quindi io credo io non so se esiste questa possibilità di svincolarsi ma io sono certo che se alla fine dell'anno prossimo Fabio Quartararo ipoteticamente non ne potesse più di stare in Yamaha io credo che in qualche maniera una soluzione si troverebbe Andrea che evidentemente non ha molta stima di morbido dice sono 4 anni che danno tempo a morbido però io ripeto stiamo parlando di un pilota che nel 2020 ha vinto 3 gran premi più di tutti con la Yamaha è un pilota che nel 2020 ha dato paga a un campionissimo come Fabio Quartararo è un pilota che si è giocato il mondiale e che ha perso probabilmente non per colpa sua quindi io avrei un pochino più di rispetto per Morbidelli allora Maurizio molto dipenderà anche da come andrà il mondiale di Bagnaglia se sarà davanti a tutti ancora a metà campionato la sua voce conterrà come nella scelta del compagno ecco Maurizio io su questa considerazione non sono assolutamente d'accordo io credo che Bagnaglia non ha nessuna voce in capitolo nella scelta del compagno di squadra è una mia opinione per carità massimo rispetto per la tua ma io sono convinto che non ha nessuna voce in capitolo magari viene comunicato in anticipo questo per carità ci può stare ma Bagnaglia non ha nessuna possibilità di decidere chi debba essere come giusto che sia come normale che sia come giusto che sia non ha la possibilità di decidere il suo compagno di squadra allora vado avanti ancora un pochino perché vedo che ce ne sono ancora tante Francesco secondo te Mir e Vignales possono andare in Team Satellite in vista del 2025 2026 non lo so allora Mir sì secondo me sì Mir è uno che probabilmente se non dovesse vedere non dovesse riscontrare dei miglioramenti in Honda potrebbe anche pensare a Team Satellite perché lui ormai sono troppi anni che è in difficoltà mentre per quanto riguarda Vignales non lo so non lo so perché lui ha già fatto comunque una rinuncia in qualche maniera importante passando da Yamaha ad Aprilia in quel momento lì ecco non so se ne farebbe un'altra vediamo Tadnes che va fuori dal mercato grazie secondo te se Mark non vince ad Austin sarà un segnale importante di svolta e negativo per la sua carriera beh non lo so questa è una considerazione da fare a fine gara e a vedere come va la gara perché voglio dire Mark potrebbe anche non vincere dopo però aver lottato per tutta la gara per la vittoria potrebbe essere così allora sarebbe diverso a che se Mark facesse che ne so sesto staccato di 10 secondi ecco diciamo che molto dipenderà dall'andamento della gara è chiaro che comunque questo è un appuntamento importante è un appuntamento importante tra per Mark Yamaha non ha ad essere competitiva questo Thomas io non lo posso sapere io ho già detto prima che non credo sinceramente che nei prossimi due anni quindi pensando al contratto di Quartararo 2025-2026 Yamaha possa essere competitiva per permettere a Fabio di giocarsi il titolo spero di sbagliarmi è vero che da ora in poi potrà sfruttare meglio le concessioni con test sviluppi eccetera però secondo me allora per tutto il 2024 io credo che non sarà difficilmente competitiva con la speranza che possa fare un bel passo in avanti nel 2025 Claudio è d'accordo con me dice Honda e Yamaha non saranno competitive a breve allora andiamo avanti vediamo se c'è qualche altra considerazione Francesco dice il morbido è un grande nel giro di un paio di gare rimarremo stupiti del suo miglioramento io guarda Francesco me lo auguro molto perché sono molto affezionato al morbido ma così come a tutti gli altri piloti però per la storia di morbidelli sarebbe veramente fantastico fantastico vederlo di nuovo competitivo Gioia dice nutrivo tante speranze su Luca Marini naturalmente ma il suo inizio è stato è catastrofico allora su Luca Marini spendo soltanto due parole allora le difficoltà sono enormi le difficoltà sono enormi anche se paragonate in termine di prestazioni rispetto ai suoi compagni di marca e questo è sicuramente l'aspetto l'aspetto preoccupante devo dire devo dire che forse l'unica scusante tra virgolette ma non vuole essere una scusante l'unica considerazione che mi viene da fare che essendo Luca Marini uno molto metodico uno molto preciso uno molto attento a tutto quello che fa ai piccoli miglioramenti a raccogliere dati eccetera ecco si sia in una fase in questo momento si è in una fase dove veramente il risultato la prestazione è l'ultima considerazione che lui fa in questo momento ripeto so che adesso mi daranno mi diranno che eccetera eccetera le solite cose ma è una una valutazione che io volevo condividere con voi io credo che lui in questo momento stia cercando una base della moto che gli permetta di essere più competitivo a quel punto fare ultimo o penultimo non cambia niente alla fine del risultato ovviamente è chiaro che certi distacchi sono preoccupanti ma io la vedo così io vedo che lui sta facendo questo tipo di lavoro allora vedo che Vignales può fare la differenza spesso in negativo però questa è la considerazione di zio Tibia Gioia ha perso le speranze già non si può più puntare su Vignales quindi Gioia l'ha ha bocciato Vignales Claudio dice chi salerà dalla moto 2 oltre al Deguer nessuno allora questo Claudio questo è un classico io l'avevo detto lo dico oggi non ci sarà nessun altro pilota che salerà dalla moto 2 in MotoGP per due motivi uno perché probabilmente non c'è in questo momento nessun pilota purtroppo compreso Arbolino e purtroppo compreso Celestino Vietti che abbia dimostrato di avere la possibilità e le qualità di passare in MotoGP e l'altro perché uno degli aspetti su cui si sta lavorando da quello che so che sta lavorando Dorna e che vuole mantenere i piloti della MotoGP vogliono mantenere quelli per un po' di tempo per creare una sorta di affezione del pubblico a questo pilota comunque lo dico oggi lo dico oggi un classico io l'avevo detto segnatevelo domenica 7 aprile non salirà nessun altro dalla moto 2 in MotoGP se non ovviamente Fermin Aldeguer allora Andrea Di Bella credo che stia parlando di Quartararo dice poteva fare un investimento su se stesso come ha fatto Mark Marquez ecco io credo che la situazione non sia paragonabile tra Fabio Quartararo e Mark Marquez per un motivo principale Mark Marquez aveva un'alternativa vincente perché anche se in un team satellite anche se in una squadra non ufficiale anche se con la moto dell'anno precedente Mark Marquez sapeva benissimo che lasciando la Honda per la Ducati aveva un'alternativa vincente e secondo me questa è la mia opinione un'alternativa che gli può permettere di conquistare di lottare il titolo per il titolo mondiale di giocarsela ecco questo io credo che faccia la differenza Fabio Quartararo forse forse ha valutato che questa alternativa non ce l'aveva come ho già detto prima l'unica vera alternativa probabilmente era l'Aprilia e forse Quartararo non ha ritenuto che l'alternativa Aprilia fosse veramente la soluzione vincente ecco io credo che questa sia una grande differenza non è una questione di soldi la situazione di Mark Markets era completamente differente è completamente differente anche per una questione di età e quindi io credo che le due situazioni questa è una mia opinione naturalmente non siano paragonabili allora Xene dice a volte sei molto ottimista con alcuni piloti lo ammetto io sono abbastanza abbastanza ottimista in generale e i piloti insomma mi piacerebbe alla fine mi piacerebbe vederli andare forti tutti ma so che non è possibile Gabriele dice Maverick manca solo un po' di cattiveria allora sto scorrendo un po' di domande che sono rimasti indietro adesso vado più in foro perché direi che siamo arrivati quasi in 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 chiusura Matteo dice Mark Mark vuole dimostrare di essere ancora il numero uno assolutamente legittimo assolutamente legittimo e ci mancherebbe altro un campionissimo e vuole e vuole ancora dimostrarlo allora prendo ancora vedo che ne arrivano tanti mi fa piacere siete in tanti collegati fra poco stacco però vediamo qualche altra Sergio dice credo Quartarara abbia anche valutato la difficoltà che avrebbe potuto trovare passando ad un V4 dal 4 in linea anche questa è una considerazione Sergio è una considerazione che magari lui ha tenuto in considerazione non è assolutamente scontato che uno lascia la Yamaha e passa su un'altra moto e va subito forte lo abbiamo visto in tanti casi come Lorenzo con la Ducati lo sappiamo l'abbiamo visto in tantissimi casi quindi e quindi assolutamente potrebbe essere una valutazione corretta allora 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 molti chiedono di un ritorno di Giannone in MotoGP io non so niente di questa cosa proverà la MotoGP può anche essere non lo so sinceramente non lo so sinceramente mi viene difficile pensare che Giannone possa tornare in MotoGP ne abbiamo parlato anche con Marco Rigamonti nella diretta di martedì e quattro chiacchiere con Marco Rigamonti attuale capotecnico Diania Bastianini uno che conosce molto bene Andrea Giannone perché ci ha lavorato in Suzuki ci ha lavorato in Ducati è stato al suo fianco lo conosce molto bene però io credo che a questa età e dopo questo tempo senza aver guidato una MotoGP io credo che sia molto 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 complicato per Giannone tornare in MotoGP e ricordatevi la considerazione che ha fatto Piero nella diretta Chiedilo a ZAM con i due lettori che ho coinvolto Piero ha fatto questa considerazione assolutamente molto 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 azzeccata lui dice un conto è tornare per un pilota come Giannone tornare su una superbike che dopo quattro anni è per certi versi simile all'ultima MotoGP che ha guidato e un altro conto è tornare su una MotoGP che in questi quattro anni si è evoluta con aerodinamica abbassatori elettroniche e quant'altro ecco è molto differente è veramente molto differente quindi è una considerazione di che aveva fatto Piero e che è assolutamente assolutamente interessante allora direi che siamo in chiusura mi sono divertito anche stasera e quindi questo è così una bella considerazione che voglio condividere assieme a voi e voglio ringraziarvi per quante per quanti siete stati collegati domani alle 15.30 uscirà sul canale la versione video del podcast a tutto gas con Davide Brivio che spiega che spiega quali potrebbero essere i vantaggi che porterà Liberty Media nel futuro è un podcast che trovate già su moto.it e sulle principali piattaforme audio domani lo trovate in versione video questa volta video integrale anche sul canale Zamtube poi io mercoledì partirò per gli Stati Uniti per Austin però insomma tra moto.it e Zamtube ci sarà sempre qualcosa di interessante spero riguardante il moto mondiale la moto gp la super bike le corse eccetera eccetera allora vi ringrazio tutti tutti quanti che mi avete seguito è stato un piacere mi sono divertito a rispondere a un po' di domande grazie a tutti buona serata buon tutto domani ore 15.30 Davide Brivio a tutto gas ciao a tutti grazie ciao a tutti Grazie per la visione!